5 a 0, 6 a 0 dello Steau a Bucarest sullo Young Boys, il primo gol è al terzo di Smitu. All'andata lo Young Boys aveva pareggiato 2 a 2, al ritorno invece è crollato a Bucarest. Ecco il secondo gol, segnato al nono da Samis. Anche queste immagini sono in bianco e nero, ancora non tutte le immagini che vi mostriamo sono di eccellente qualità. Ecco il terzo gol, segnato nel secondo tempo da Aclanei. E' ancora il 4 a 0 per merito di Raducano. Il quinto gol è ancora di Samis che aveva segnato il secondo gol. Eccolo con un colpo di testa che scavalca il portiere svizzero molto sorpreso e molto impreparato. L'ultimo gol è di Zaio, un 6 a 0 vistosissimo per il passaggio dello Steau a Bucarest e qui bastava una vittoria con qualsiasi punteggio. 6 a 0.